Ragazzi una piccola premessa Questa prima scena è stata registrata da mio fratello con il suo telefono A mia insaputa ovviamente Facendomi credere che stesse scrivendo un messaggio Io ovviamente come un coglione Anche perché sono un po' rincoglionito io Ci sono cascato E vabbè che vi posso dire Godete il video e soprattutto Godetevi lo scherzo che mi ha fatto Fabri O Sasha Ciao raga Fabri carso sei pronto? Allora è mezza che devo fare il video carso Ma che dove sono? Oh un attimo Oh e non è 40 Un cazzo Oh tu briga ti intanto prendi la roba Porca troia Vabbè intanto porti su una macchina e un altro piede Vado a te ne mancano l'azione E gli altri Che cazzo stanno le chiavi della terapia Lasciate quattro secondi fa Ma un cazzo sto divivando del letto Ma spazio patroia Questo è il cazzo di chiavi della terapia Che cazzo Oh te muovi Ancora mettere sto Sì le lacciamme le scarpe Tu intanto vai Poi me la vedete e ti arrivo Ah tu vai muovi Oh cazzo Però muovi di cazzo Dai Però ce l'ho occupato Ci abbiamo poco tempo Dai cazzo Oh sbrigate che ti do una manganellata in testa se ti muovi Stai colpo Vedi Arricca hai registrato? Sì sì Come un uovi Come un uovi Poi una sola idea E poi come andiamo di tutto E poi mettere l'acqua Alla dai dai dai, ancora un po' non ti ho appena un po' veniamo a vedere il fatto che ci sia un palito sì, ok vabbè comunque io stava pensato alla ripresa potremmo mettere acqua e tipo fai dietro o sennò sarebbe bello e potremmo pure spuntare sto cazzo del muro perché ci mettiamo tipo come come spunto l'hai capito ma che cazzo ma la pari mortacci tua ma ecco io guarda stai praticando stai cogliendo cazzo ma facciamo un video a te guarda che cazzo fai cogliendo dai arriviamo se fa vlog nel mio pratico dai vede cominciamo sto vlog se mettiamo qua a muro dai va a fa culo ma ma aspetta la vendetta benessi da fai 14 e qui con me c'è fabbriwey bella raga benvenuti in questo vlog tutto stronzo mi hai fraccicato tu mi hai sbaglietto abbagnata cioè io non ho la bebe steam perché dovevamo registrare blog arrivarmi con un secchio d'acqua ma me lo potevi almeno a vestire no? come qua non c'è stata la sorpresa mi ha fraccicato non c'è c'ho le mutande pure i fragili quanto i fragili sono tutto un raggio e cazzo ma questo è per festeggiare il mio rientro perché ora mi dicevano a fa tutti i video perché mo c'è estate perché mo c'è stata la fine eh vaffa culo finalmente finalmente siamo tolti sta rottura di cazzo siamo molto dispiaciuti vero minuto di silenzio ma di che ok basta e comunque e comunque in questo video volevamo parla delle sfide dei modi prossimi dobbiamo fare allora pari a ci saranno tre tipi di video che faremo adesso allora uno no pure 4 da mettiamo uno saranno le challenge torneranno le nostre bellissime sfide si va bezzati sti grazie le nostre bellissime sfide o su gta o nella vita di arte normale perché una già ce l'abbiamo in mente un po però un così a voi scriveteci nei commenti certo invece che mangia roba del merda preferire mozzato male così vi prego niente schifezze meglio roba che mi fa male guarda un po più meglio una bottiglia le vedo pronte no vabbè non esageriamo ma ci avete più su youtube ci trovano in galera oppure oppure faremo ovviamente altri video su gta certo c'è un bacino da bocca ti ho detto faremo altri video cazzeggio su gta poi poi terzo importante c'è dovete scrivere nei commenti un gioco preferibilmente horror su cui ci facciamo una serie così facciamo tantissimi video di tanti video al giorno di sole però cazzo fa un caldo boia briga volendo sbrigati preferibilmente horror da registrare insieme magari lo facciamo al compiuto almeno così uno stato assieme all'altro con la luce spinta ma lui si è spinta non so come bello se ci abbiamo macchinetta come cazzo poi ci mette la luce quella la che c'era quella tutta figa che cazzo è 4k la luce 4 che caso come che si dice il piccione è passato all'italia c'era scritto superficie quindi consigliateci nei commenti un già basta motosparo consigliateci nei commenti un gioco horror da fare insieme che fa cagà sotto ma veramente tanto e poi fine faremo altri blog tipo così come fabrizio verrà dormire spesso a casa mia in questo periodo durante questo periodo vi faremo magari dei dei riepilupi delle serate di guantana che prego perché fidatevi facciamo tanti cazzari e faremo tanti altri bei video famo tipo grande fratello a fine in mare poi dai famo i live famo i live dentro casa c'è ricardino che registra tutto c'è il mio fratello che c'è regista ma comunque sia scrivete se volete facciamo lei qualche domanda per un pochi d'anno magari scriveteci sotto sempre nei commenti vabbè per questo video è tutto ricordatevi di mette tutte le cose che vi passano per la testa nei commenti tagli e corsato magua se volete lasciate mi piace commentare questo è doppico avete mette mi piace dovete commenta se non arriva fabrizio e tira una secchiata pure a voi in camera le traghi a tutto se volete condividere video sto farlo a scattivare e lasciate mi piace condividete e scrivetevi bella raga bella raga al prossimo video ciao 3 2 non direi di ciove ben si sarebbe tutti in me ben si sarebbe forti che qui come c'è Beh si sarebbe forti da qui con me Dai muoviti non ridi Cazzo non ci stanno